Abbiamo visto nei precedenti megatrend come l'innovazione digitale stia avanzando nel campo della diagnosi clinica attraverso l'utilizzo di dispositivi, come tracce, in grado di catturare i dati provenienti dal nostro corpo e comunicarli direttamente al medico specializzato. Questa tecnologia è in grado di fornire, real-time, dei feedback sulla nostra salute ed aiutare i pazienti malati di specifici disturbi, come il diabete o altre malattie cardiovascolari, integrandosi al processo diagnostico. Stiamo parlando di innovazioni che vanno oltre i hot e wearable a cui si aggiunge un'ulteriore importante dimensione, quella dei dati. L'analisi dei big data e la genomica stanno svelando una grande quantità di informazioni sulla nostra salute, aprendo le porte alla nuova era della medicina personalizzata. Per ogni paziente, potrebbe esserci un farmaco ad hoc. E studiando le variazioni del genom, si può addirittura intervenire per prevenire alcune malattie. C'è ancora molta strada da fare, ma il mercato dei farmaci personalizzati ha già raggiunto il valore di 42 miliardi di dollari. Due scenari a confronto immaginiamo di avvertire delle palpitazioni cardiache. Oltre alla preoccupazione del non sentirsi in buona salute, bisogna anche pensare a prenotare visite ed esami medici. Il che, in molti casi, resta complicato e macchinoso. Senza dimenticare che bisogna aspettare i risultati per capire cosa non va. Ora immaginiamo uno scenario alternativo, in cui l'esperienza medica del paziente è almeno un po' meno traumatica. In questo nuovo scenario, i dati sullo stato di salute sono già disponibili e trasmessi immediatamente al medico. Il quale, a questo punto, potrebbe quindi essere in grado di fare una diagnosi immediata e prescrivere subito un farmaco su misura, adatto al profilo genetico del paziente. E tutto questo potrebbe accadere nel giro di un paio d'ore. Il secondo scenario non è così lontano come si potrebbe pensare. La medicina personalizzata sta crescendo rapidamente, aprendo le porte a un mondo tecnologicamente avanzato, più efficiente e meno costoso di valorizzare quello che i medici fanno da millenni, ossia prendere le decisioni giuste su prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie. Ma questa volta lo fanno con le informazioni che arrivano dal nostro profilo genetico, producendo trattamenti personalizzati per il singolo paziente. Il futuro della salute è personalizzato. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rue du Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.picte nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare. Quanto diminuirevi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. PICT non ha acquisito i diritti o servizio offerto o servizio offerto o servizio offerto o servizio offerto o servizio offerto.